Adesso proviamo un altro titolo Che è una demo Così in caso Ok Allora, si può giocare o in inglese Oppure in emiliano, in patacca Qua c'è scritto, ma noi lo giocheremo in inglese perché Honor Games The game contains scenes of brutality and violence The game is under development Allora, settings Display mode, window e phone screen, v-sync on Brightness, dim... Shadows, thunder, antennas Post-processing, va bene Input, va bene Sound volume, mi sembra alto Mettiamo 69, le Mao Ok, new game Souls-like mode Turns the game into souls-like The rebirth of monsters at death of players Increase the enemies received More enemies The game is lost to the death of the player If it was not invested in skill Adaptive difficulty Adaptive difficulty Vabbè, niente Ho messo souls-like mode Allora O cazzo Va bene Va bene F skip Regà, non ci interessa la lore perché poi uscirà il gioco completo Questa è una demo Quindi noi cibi Cioè Allora The first option is another for the gamepad You can change the... The first option Qual è la first option? La Q Come faccio? Come faccio? Ma come faccio a dare il colpo in basso? Non riesco a dare il colpo verticale Chat Questa Well done Now Knock the shield from my hands Ah, to know the shield Ah, to know the shield Ah, bella Search for weakness in the enemy's armor The directions of your attacks Will help inflict damage to vulnerable areas Minori Ah, crystal completed block damage Into unprotected places Okay Remember that short blows Only gain rage For serious damage You need to hold the attacked key Remember that short blows Only gain rage The place of the hit masters In the head The damage is higher The damage is lower Follow the movement And understand where the damage will be done Ma Ah, vedete Io così swingo da destra a sinistra Ah, okay Okay Sì, anche io devo vedere se si può aumentare il fove, raga Siamo a 115, vediamo Figa, troppo 115 95 Già meglio Ok Now, deflect the attacks near the dummy with blades Sono nudo Ma tu sei mostrano No, veramente è lì? Oh, non, 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 non Mianche Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Allora, Hold Ability Change. Allora, Hold to Charge Abilite. Now, show me your range combat skills. Up there, on the other side, is another skeleton. Shoot it with a crossbow. You are definitely talented and show great promise. Oh, if you remember your purpose. You are Sauron, the warrior of Azator. Ve l'ho detto che ero Sauron prima, vedete? Tutto torna. E niente, domani facciamo le nuove FF. Cioè, come non posso schipparlo? Cioè, se P.G. la Q riparte. Cioè, tipo, tu sei lì che dici, ah, l'ho visto tutto, che figata minchia, finalmente è finito, non potevo schipparlo. Ah, lo rimane indietro di qualche secondo, ok. Ma usa la mano e tutt'ora è finito, quanto è legno? Da 1 a 10, 9. Sauron, the sacrifices have been made. Proceed. The time has come to reclaim our world. There you go. Ehm, che iniziano a dar Sauron. Ehm, che iniziano a dar Sauron. I can absorb this dark energy. When life forces abandon me, I can be reborn to places infused with dark energy. Fading on the remnants of cruel events from the past. Oh, light spell X. Grosser, va bene. Check bolts. With crossbow. Swap spell. Magic. Quick slot. Inventor. Ma va bene. Non mi ricordo nemmeno una, ma... ok. Cosa fa con questa? Questa è una chiave per aprire il nemico uccidere? Oh, che figo. Che puoi leggere nella mente dei morti? Ah, qua puoi salvare. Oh, merda Facchio Oh, baby, come l'ho arato Nel momento del teabag Ok, ve lo vedo Ah, all the block Without releasing it, lancia counter-attack Blocking for too long, we lead the player to being stunned Ok, vediamo Fuck you Bitch Dai, dove è il boss? No, we can't say it, boss The city of Tyr Built by humans upon the mines for the extraction of magical crystals In the lands of Avernmore I could not have imagined such beauty Ah, ma è più che dark and darker Non ricordo ex-anima, ma in prima persona Ma cosa è successo? C'ho la sensazione un po' alta Credo che stiamo mangiando la merda Eh, sì Me ha rotto il culo Vaffanculo, bitch Mi avevano picchiati malamente in testa Ah, devo capire questa cosa della rage Ah, vedi, ok Ho capito Allora, tu con i jab Con i colpi piccoli carichi la rage Anche se non c'è una fottuta interfaccia che te la faccia vedere Quindi c'è la non... interna un faccia Devo dirlo, scusate E... Carichi tipo questa... Questa barra invisibile Con la quale puoi puoi fare i colpi caricati che fanno i turbo danni Dove dobbiamo andare, chat? Non, 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 non... Si è già perso E qui dice che è locked from the other side Ma vaffanculo Ma mi ha sciottato Ma che cazzo è? Ma è fortissimo Oh Un summoner quello Arato Cos'è che potevo farlo? Va bene però Ok di qui si va Allora non è male Però è bello Oh It appears that the city Has been seized with necromancers Yet They did not participate in the battles directly They managed to spread their magic through crystals Which are extracted from the mines of the city of Tyr These crystals have absorbed the souls of hundreds of people Turning them into undead Dead The necromancers Controlled them like puppets And within a few hours of the battle There was no trace left Of the living Stavo dicendo Non è brutto È un po' macchino... Cosa cazzo c'ha in mano? Ma mi vuole picchiare con un candelabro? Un tank! Poggies! Quanti tank mancano, chat? L'ambientazione non è brutta Ah, ok 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 dice Strong magic won't let me pass E noi lo glitcheremo Niente da fare Not glitchable No, proviamo a farlo camminando lì Allora, intanto vediamo di guardare nella testa di questo Ah, però mi ha dato una chiave Allora In una delle tasche trovi le chiavi Beh, vedi, dai Sembra già pensato decentemente Però se li mettono queste cose, no? Un altro tank! No, Deda Puoi farlo con un altro... If you know what I'm saying Guarda che sono la 37esima persona che ha giocato grande, Abby Allora, la cosa vera del gioco è che tu puoi annullare l'attacco per parare, vedete? Il terzo gioco che andiamo a provare Allora, adesso準so Ah, non è Sì